Salute a tutti, salutos a todos, minna, konnichiwa, sono Michele Molinari e a International Photo Project presento il progetto Pulmón de Aires. Si tratta di una selezione di 14 immagini da un corpo molto più vasto, sono circa 500, scattate a Buenos Aires, in Argentina, con una fotocamera digitale montata su un cavalletto mantenuto nello stesso posto per 12 mesi. Tutte le immagini rappresentano lo stesso soggetto, si tratta del cortile di casa dell'appartamento dove vivevo, il Pulmón appunto, con gli edifici nella parte inferiore e il cielo nella parte superiore. Quello che cambia nel fluire del tempo e nello svolgersi delle stagioni è la luce e il colore del cielo, che si riflette e tinge il cemento degli edifici. Si notano anche lo svolgersi delle stagioni, diverse situazioni meteorologiche, nuvole, il vento che trascina le nuvole, le stelle della notte, il sole abbacinante del giorno. E ci sono anche gli abitanti, gli abitanti invisibili in questo caso perché non sono stati fotografati, ma le cui vite si riflettono nelle luci accese o spente che filtrano dalle finestre, nelle tapparelle alzate o abbassate. Tutte le immagini sono state scattate in RAW e il successivo editing si è limitato all'essenziale. I colori non sono stati alterati. Il progetto Pulmón de Aires, attraverso la costanza e la ripetizione degli scatti delle immagini, pone lo sguardo su un soggetto ordinario, come il cortile di casa, sino che la banalità del quotidiano riesce ad assumere un'identità complessa e inaspettata. Queste immagini, queste fotografie, sono la memoria che ci sfugge di un soggetto che spesso non guardiamo con lo stesso interesse tutti i giorni perché è un soggetto comune, ma ci riportano alla capacità di vedermi i cambiamenti che a volte non riusciamo a percepire. Grazie. Grazie.